Buonasera a tutti, buonasera popolo, buon Natale a tutti quanti voi, scusate anche se è ritardo ragazzi ma buon Natale a tutti quanti, diciamo che la ripresa è stata un po' dura e non ci siamo riusciti do ieri, ma sono arrivato il 24 dicembre che non ho mangiato, mi sono arrivato il 25 che ero a pezzi e soltanto oggi ho la forza di fare gli auguri a tutti quanti voi, sono contentissimo e sono onorato di tutte le persone che sono venute e ci hanno veramente onorato a fare la fila per ore e ore e ore. A un certo punto addirittura sono arrivate persone che prendevano il numero e avevano addirittura 2000 persone avanti, io sono contentissimo di tutto questo ma soprattutto ragazzi sono onorato perché sono riuscito a realizzare il mio sogno, il mio sogno era questo qui di poter riuscire a ribassare il prezzo delle ostriche in tutta Italia, in tutta la campana, quest'anno e il Natale saranno potuti permettere tutti perché le ostriche non sono state un lusso e questo per me è veramente un onore perché era il mio sogno e finalmente ci sono riuscito dopo un anno di sacrifici con le ostriche sono riuscito ad ottenere il mio obiettivo, il mio obiettivo era questo qui, le ostriche quest'anno non sono state un lusso e tutti hanno potuto mangiare ostriche ad un prezzo basso e tutti hanno potuto mangiare ostriche. Questa è stata la cosa più principale perché prima era un lusso e oggi non lo è più, grazie a Robin Hood e io voglio ringraziare solo a tutti voi perché se io posso fare questo è solo grazie a voi, sono onorato di tutto questo, spero sempre di poter riuscire a strappare un sorriso a tutte le persone che non possono, veramente di vero cuore perché Robin Hood lavora per questa cosa qua. Robin Hood è onorato di accontentare tutte le persone che non possono e sono veramente felice di poter strappare un sorriso specialmente di questi giorni qua ragazzi perché il Natale per me è sacro, il Natale significa famiglia, significa amore, significa veramente stare insieme tutta la famiglia e poter mangiare insieme tutti quanti. Se posso riuscire a strappare un sorriso con una piccola partecipazione mia sono contento di tutto questo. Ragazzi un bacio a tutti voi da Robin Hood è tutto, buon Natale a tutti quanti voi, vi aspetto per fine anno, per capodanno, per chiudere l'anno in bellezza e perché ragazzi ostriche e champagne per tutti quanti perché le ostriche non è lusso, il pesce non è un lusso e tutti devono poter mangiare pesce.